Segretario, tra scuole chiuse, DAD, possibilità di riapertura dopo Pasqua, lezioni che si potrebbero tenere in estate con progetti di comunità e poi le vaccinazioni, c'è tanta carne al fuoco per la scuola in questo momento? Sì, tanta carne al fuoco e purtroppo ancora tanta confusione. Con le vaccinazioni sul personale scolastico siamo veramente a rilento e le percentuali non sono incoraggianti e quindi siamo preoccupati dell'eventuale ipotesi di riapertura delle scuole dopo Pasqua. Per quello che riguarda invece l'ipotesi di prolungamento del calendario scolastico questo è già stato escluso. Ovviamente la scuola una volta terminata l'anno prosegue con delle attività che sono ad esempio i corsi di recupero nella scuola secondaria per quelli che in qualche modo hanno evidenziato delle carenze, delle difficoltà. Ci sono in ipotesi di progetti di comunità, quindi progetti di attività didattiche, educative attivate dalle scuole in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni del territorio e così via per proseguire con delle iniziative soprattutto quando c'è richiesta da parte dell'utenza. Ma è proprio da escludere una ripartenza, una riapertura delle scuole dopo Pasqua in questo momento? Non è da escludere, è assolutamente pericolosa. Non è che la escludiamo perché il personale, noi sia a livello sindacale ma interpretando tutto il volere del personale della scuola, la scuola si fa a scuola e in presenza. Il problema è che non ci sono le condizioni di sicurezza. Oggi con la diffusione della variante inglese e così via non vogliamo rischiare di cominciare a contare morti tra i ragazzi in età scolare. E quindi probabilmente l'anno scolastico si chiuderà senza il ritorno degli studenti a scuola? Ci deve essere il massimo impegno di tutti perché questo avvenga, avvenga nel più breve tempo possibile. La scuola non si è mai fermata, quindi continua ad operare al massimo con gli strumenti che ha a disposizione. Quindi intanto facendo didattica a distanza e speriamo prima possibile. Poi le condizioni non sono le stesse dappertutto e quindi bisogna anche analizzare questo sull'intero territorio regionale. Grazie.